Giulia Stabile volta pagina dopo San Giovanni. La ballerina è stata pizzicata con un famosissimo attore internazionale Una separazione che fa ancora male. La coppia formata da San Giovanni e Giulia Stabile ha conquistato gran parte dei telespettatori di Canale 5 Una trama da favola nella quale la protagonista della storia non era consapevole della sua bellezza ed unicità Arrivò dunque il cavaliere dall'armatura d'acciaio per ricordarle le sue qualità e per dimostrarle quanto fosse degna di amore e rispetto I due si completarono nella rispettiva originalità ed eccentricità I giovani che seguivano le puntate di Amici dunque non poterono fare a meno di rivedersi in loro. Tanto da sperare profondamente nel lieto fine Inizialmente San Giovanni non era sicuro se concedersi o meno all'amore Era deciso a focalizzare tutte le sue attenzioni sul suo percorso. Senza alimentare dinamiche che potessero oscurare la sua arte Tuttavia, dopo pochi giorni, il sentimento ebbe la meglio. La coppia ha resistito lontana dalle telecamere per diverso tempo Due talenti promettenti che si sostennero l'un l'altra, successivamente separati da quegli stessi sogni che qualche anno prima avevano reso il loro legame così indissolubile Il primo a confermare l'addio fu San Giovanni. Dopodiché Raffaella Mennoia responsabile ed autrice di Uomini e Donne inviò un messaggio a Giulia sui social Esaltava la sua forza e la sua capacità di trasformare le emozioni in arte Amici, Giulia Stabile ha dimenticato San Giovanni. Giulia Stabile e San Giovanni si sono lasciati da circa un anno Il cantante ha concretizzato le sue emozioni sul palco del teatro dell'Ariston, spiegando che il brano proposto al pubblico fosse frutto proprio del periodo post-separazione Dopodiché ha annunciato il suo ritiro temporaneo dalle scene, in quanto provato dallo stress accumulato negli ultimi mesi Ha scelto di considerare prima di tutto la sua salute mentale, rinunciando dunque ai suoi sogni di gloria Giulia invece ha continuato a frequentare gli studi Mediaset di Amici come ballerina professionista Nelle ultime ore, inoltre, è divenuto virale un video che la ritrae in compagnia di un attore di fama internazionale I due mostrano un certo feeling, tanto da lasciar pensare ad una possibile frequentazione top secret Si tratta della star di Elite, Mano Rios. Giulia non ha confermato le indiscrezioni Ad ogni modo, da quanto la ballerina ha conquistato la fiducia di Maria De Filippi, ha avuto modo di costruire una carriera artistica e mediatica di tutto rispetto L'incontro fortuito infatti è avvenuto durante il lancio di Carrère, a Milano Marzald I10 L'Ouv Vega L'Ouviyoruz L'Ouv molecola L'Ouv сю L'Ouv certificate